Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e oggi facciamo i preparativi per la comunione, yeeey! Pronto, pettinero! Per una perfetta bomboliera servono i sacchettini, il cartoncino con il nome, poi l'albero della vita e il tulle azzurro e anche il nastrino ai confetti. Per abbellire la tavola abbiamo queste bellissime piantine delle mie sorline. Con Lucrezia e Carlotta stiamo preparando le bomboniere. Con le mie sorline stiamo facendo le bomboniere e abbiamo stampato in 3D l'albero della vita. Vedete? Sono questi qua. Siamo una macchina da guerra! Aiutatemi! Io mi aiuto col sacchettino! E' bellissimo! Guardate! È bellissimo! Guardate! E' bellissimo! Guardate! Io vi la stimo, vediamo! brava Carlotta, brava Lucrezia bravissima sembra un conigliano siamo pronti per la festa, ci vediamo domani, ciao